Arriba la tassa di soggiorno ed è pronta una stangata da 40 milioni di euro. Sono le anticipazioni sul bilancio di Palazzo del Cursio che sarà parato domani dalla Giunta. Allo studio anche un aumento IRPEF per i redditi più alti e la rimodulazione del Limo. Aumento nei consensi per Virginio Merola, il sindaco di Bologna migliora del 3,5% nell'apprezzamento dei cittadini rispetto al giorno dell'elezione. Per lui il 54%, cresce anche il governatore Vasco Errani. Il rischio di infiltrazione mafiosa in Emilia Romagna è sempre alto. Occorre grande attenzione da parte delle forze dell'ordine e del mondo politico, firmato da Regione Comune un accordo sulla sicurezza. Il danno erariale causato dalla vicenda Lombardelli, se ci fosse sarebbe minimo. Parola di Anna Rita Iannucci, dirigente del Comune, ascoltata oggi in commissione sul caso dell'escapo di gabinetto, poi dimessosi, ma l'opposizione attacca. Calcio posticipo di campionato questa sera a San Paolo, dove il Bologna scende in campo contro il Napoli di Mazzarri. Pioli propone una diga di centrocampo per bloccare la fantasia degli attaccanti partenopei. Con questa edizione del nostro giornale, lo avete sentito dai titoli, la giunta di Bologna si prepara domani a definire la manovra. In arrivo una stangata da 40 milioni di euro, in gran parte ottenuta attraverso le aliquote IMU. Nella manovra ci sarà anche la tassa di soggiorno e non mancano le polemiche. Ma facciamo il punto in questo servizio. Ci sarà anche l'introduzione della tassa di soggiorno nel primo schema di bilancio che la giunta di Bologna presenterà. La novità è stata confermata in una riunione con le associazioni di categoria, uscite particolarmente scontente dal summit di questo pomeriggio in Comune. Era una cosa nota, ne discuteremo con loro, si è limitato a dire il sindaco Virginio Merola. Mentre secondo il coordinatore di giunta Matteo Lepore, l'imposta sarà uno strumento utile per investire nella riqualificazione della città. Agli albergatori non sono state però spiegate le modalità di applicazione della nuova tassa che con le aliquote massime potrebbe valere anche 6 milioni. Se ne parlerà domani mattina nell'ultima delle quattro riunioni di giunta in otto giorni per la definizione della manovra comunale. Allo studio anche l'aumento dell'IRPEF per i redditi più alti e le modulazioni dell'EMU. La tassa sugli immobili che l'assessore alla casa Riccardo Malagoli sta cercando di rendere il più morbida possibile per le prime abitazioni. I margini però sono molto stretti, come hanno ribadito lo stesso Merola e la vice sindaco Silvia Giannini. Una delle novità dunque sarà la tassa di soggiorno. È la prima volta che si applica a Bologna, bisognerà prenderci le misure, ha spiegato Lepore, assicurando che le modalità di applicazione saranno discusse in un percorso di concertazione con le categorie, come prevede la legge. La bocciatura delle associazioni di categorie è stata però senza attenuanti, così perderemo competitività come sistema turistico bolognese in una fase così delicata di crisi economica. Se ne farebbero carico gli albergatori, hanno risposto. Per questo le associazioni di categorie hanno chiesto di applicarla al minimo possibile e di reinvestire il ricavato sul turismo, uno dei pochi settori su cui Bologna può puntare per crescere. Gli amministratori bolognesi aumentano i consensi, ma non figurano tra i più amati d'Italia. È quanto emerge dal sondaggio di IPR Marketing per il Sole 24 ore. Andiamo a vedere il servizio di Massimo Ricci. Non sono tra i più amati in assoluto, ma i nostri amministratori locali registrano un incremento della percentuale di gradimento rispetto al giorno delle elezioni. Almeno secondo quanto emerge dal sondaggio annuale dell'Istituto IPR Marketing per il Sole 24 ore sul consenso degli amministratori locali. Non è tra i presidenti di regioni più amati d'Italia, dunque, il governatore Vasco Errani. La classifica è guidata da Luca Zaia con il 60% dei gradimenti, ma il presidente dell'Emilia Romagna si difende e ottiene il 53% al pari di Nichi Vendola in Puglia. Errani incrementa il consenso rispetto alle elezioni. Ottiene più gradimento anche il sindaco di Bologna, Virginio Merola, che fu eletto con una percentuale di poco superiore al 50%. Oggi, sempre secondo l'indagine di IPR, sarebbe al 50% in aumento del 3,5%, più in alto rispetto al rottamatore Matteo Renzi, che si ferma al 53%. Anche Merola però non figura tra i primissimi. In testa alla classifica del gradimento dei sindaci, c'è il primo cittadino di Napoli, Luigi De Magistris, con il 70%. Si è tornati a discutere del caso dell'ex capo di gabinetto, Marco Lombardelli, questa mattina in commissione a Palazzo d'Accursio. Affronteremo giustamente anche il giudizio per un improbabile danno erariale, che nel caso ipotetico venisse accertato, sarebbe di entità molto modesta, ha detto la dirigente del comune di Bologna, Rita Iannucci. Ma i consiglieri comunali di opposizione non sono soddisfatti. Sentiamo le interviste. Abbiamo posto una serie di domande, che avevo già formalizzato in una domanda di attualità, poi in un'interpellanza. Speravo che in una sede di udienza conoscitiva ci venisse risposto, però aspetteremo a questo punto le risposte da parte dell'interpellanza. Ecco, quindi cosa vi aspettate che succeda adesso? Fondamentalmente ci aspettiamo che da parte dell'amministrazione ci sia la volontà di chiudere questa vicenda. In realtà noi continueremo a cercare di fare luce su tutti quelli che sono gli aspetti che ancora non sono chiariti, ovvero quando il signor Lombardelli ha comunicato al comune qual era il suo esatto titolo di studio, perché qui si gioca fondamentalmente tutta la partita. Qui rimangono la domanda di quando si è saputo che Lombardelli aveva solamente le scuole medie, questa qua è in attesa perché la risposta non c'è. Sul fatto dell'inquadramento, questa mattina siamo riusciti a capire che probabilmente, da quello che ha detto il dottor Guccioni, se fosse stato inquadrato non in D, ci sarebbe stato il problema poi di dargli la delega per firmare le determine dirigenziali, determine dirigenziali che comunque ammontano non a poche migliaia di euro, come l'altra volta avevano detto, ma più di 65 mila euro. Io ho confermato la richiesta di trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica alla luce delle dichiarazioni del Segretario Generale che ha dichiarato illegittimi gli atti posti in essere da Lombardelli, di fatto avvalorando quella che è la nostra tesi fin dall'inizio, cioè che questa persona ricopriva un ruolo che non poteva ricoprire, condanno era reale, condanno alla pubblica amministrazione. Quindi adesso che succederà? La Procura ha dichiarato di aver aperto un fascicolo, in Comune è stata aperta un'istruttoria, noi abbiamo chiesto anche che i dirigenti e i responsabili di questo pasticcio vengano perseguiti. Ma chi è secondo lei responsabile? Ma qui ci sono forse più persone responsabili, non c'è un unico, tra virgolette, colpevole. Sicuramente l'amministrazione comunale ha fatto una brutta figura, questa sì veramente. La cronaca in due hanno portato via 620 euro da un negozio di abbigliamento in centro a Bologna dopo aver minacciato una commessa. Uno dei rapinatori, un lituano di 29 anni, è stato rintracciato e arrestato dalla polizia, l'altro con i soldi invece è riuscito a fuggire. Uno dei due era entrato una prima volta per un sopralluogo, dopo una decina di minuti è tornato dentro con il complice, fingendo di interessarsi alla merce su uno scaffale, ha richiamato l'attenzione della donna, 24 anni, dietro al bancone. La commessa si è spostata, dopo aver chiuso la cassa e nascosto la chiave. L'altro uomo però è stato veloce, ha subito trovato la chiave, ha aperto la cassa e ha raffatto le banconote. La donna si è messa davanti alla porta, ma lui urlando e estraendo un oggetto non riconosciuto dalla vittima, l'ha convinta a spostarsi alla scena. Hanno assistito anche due clienti. Alle 18.30 è stato dato l'allarme al 113. Poco dopo, nei giardini Fava, i poliziotti hanno notato due uomini corrispondenti alle descrizioni. Mentre l'altro fuggiva, il lituano è stato bloccato e arrestato per rapina aggravata in concorso. Aveva in tasca però solo 20 euro. Oggi in regione è stata ufficializzata la firma degli accordi con i comuni e le province per dare il via libera a tutti i progetti in campo per la prevenzione alle infiltrazioni mafiose in Emilia-Romagna, dove, dice la vicepresidente Simonetta Saliera, il fenomeno è preoccupante. Il servizio di Simone Gianness. Combattere la mafia e le infiltrazioni nel nostro territorio, non solo con azioni efficaci, ma anche con progetti di prevenzione per diffondere, soprattutto fra i giovani, la cultura della legalità e creare una barriera impenetrabile alla mafia. È l'obiettivo di un accordo con i comuni e le province dell'Emilia-Romagna che è stato firmato oggi in regione. I progetti sono 68 e saranno finanziati con 2 milioni di euro di risorse regionali messi a disposizione dalla Giunta. Scattando una fotografia ancora più dettagliata, si tratta di 39 iniziative per la sicurezza e la polizia locale e di 29 interventi in favore della cultura, della legalità e per la prevenzione dei fenomeni mafiosi. Di questi tempi, 2 milioni di euro su questi temi non avviene in molte altre regioni. Come giudica il fenomeno in Emilia-Romagna ad oggi? Importante e assolutamente da preoccuparsi. Da molti anni c'è un'attività che esiste e al momento ci pare ancora non radicata. Nel senso che la mafia per esistere ha bisogno della politica ma la politica per esistere non deve aver bisogno della mafia. Noi siamo ancora in questa situazione rispetto ad altre realtà del nostro paese. Questo ci tutela ancora fortemente. La cronaca non è andata a scuola e ha spento il cellulare fino alla sera quando è stata trovata stanca e infreddolita dai carabinieri avvertiti dai familiari preoccupati. Si è conclusa con un lieto fine la fuga di una quindicenne divergato sull'Apennino bolognese ma per i genitori è stata una giornata di allarme. Il padre, preoccupato perché la figlia non aveva fatto ritorno a scuola, ha scoperto che non era nemmeno andata a scuola. A quel punto è andato di ritorno a casa, scusate, e ha scoperto che non era nemmeno andata a scuola. A quel punto è andato in caserma e a fare la denuncia di scomparsa. I militari hanno avviato ricerca nella zona e in serata un cittadino l'ha notata vicino ad una chiesa con l'aria spaisata. I carabinieri l'hanno raggiunta e accompagnata in caserma dove dopo una cioccolata calda ha riabbracciato i genitori. Ancora cronaca hanno fatto molti danni ma sono fuggiti a mani vuote. I banditi che verso le 17 di oggi hanno compiuto una spaccata l'agenzia Carisbo di via bassa dei Sassi in zona Roveri. Utilizzando una vecchia Fiat Uno come Ariete hanno sfondato il vetro blindato di uno degli ingressi della banca. Poi però sono scappati senza rubare nulla. L'utilitaria che hanno lasciato sul posto da un primo controllo non risulta rubata. Diminuiscono ancora i prezzi degli immobili a Bologna. Lo dice uno studio di Tecnocasa che localizza il calo anche nel centro storico. Vediamo. Nella prima parte del 2011 a Bologna i prezzi delle case sono diminuiti dell'1,3% rispetto al semestre precedente. In particolare scendono i costi degli immobili in centro alla Bolognina e in zona Saffi. Tengono invece in zona Mazzini-Savena e a Borgo Panigale. È la fotografia del mercato immobiliare sotto le due torri scattata dall'ufficio studio di Tecnocasa. Continua dunque il trend negativo iniziato nel 2007 quando si registrò una flessione del 4,4% e che ebbe il suo apice nel 2008 con un meno 7,6%. Nell'area centrale della città i valori sono scesi dell'1%. Sono stabili le quotazioni nella zona di Via Farini, Via D'Azeglio e del Tribunale. Qui si registra una buona presenza di investitori. Quasi sempre si tratta di risparmiatori che acquistano per mettere a reddito anche grazie alla presenza di studenti universitari. L'investimento medio non supera in genere 200.000 euro e si focalizza su bilocali. La domanda di immobili in locazione proviene anche da professionisti single oppure giovani coppie. Un bilocale si affitta con una spesa mensile compresa tra 550 e 650 euro. Numerosi gli acquisti anche da parte di famiglie e da parte di genitori per i figli. La tipologia più venduta è il trilocale. Chi invece cerca metrature molto più ampie ed appartamenti dotati di box o posto auto sposta la propria attenzione verso le aree adiacenti al centro storico fuori, cioè dalle porte. Ed ora vediamo lettura di un comunicato sindacale. Le redazioni del gruppo ITV esprimono preoccupazione per l'ipotesi annunciata oggi da editoriale Bologna SRL di sospensione delle pubblicazioni delle tre edizioni Bologna, Modena e Reggio Emilia del quotidiano L'informazione il domani. Sono a rischio 36 posti di lavoro di giornalisti dipendenti oltre a quelli di poligrafici amministrativi e collaboratori freelance. L'auspicio è che nelle prossime settimane si possa raggiungere un accordo che garantisca l'attività produttiva e occupazionale del quotidiano. Ai lavoratori dell'informazione va la solidarietà dei colleghi di ETV. Ora ci fermiamo un attimo e poi saremo di nuovo in studio con ETG. Il nuovo studio con ETG prima di andare avanti con il giornale andiamo a rivedere i fatti principali della giornata. Arriva la tassa di soggiorno ed è pronta una stangata da 40 milioni di euro. Sono le anticipazioni sul bilancio di Palazzo da Curso che sarà parato domani dalla Giunta. Allo studio è anche un aumento IRPEF per i redditi più alti e la rimodulazione dell'Imo. Aumentano i consensi per Virginio Merola. Il sindaco di Bologna migliora del 3,5% nell'apprezzamento dei cittadini rispetto al giorno dell'elezione. Per lui il 54%. Cresce anche il governatore Vasco Errani. Il rischio di infiltrazioni mafiose in Emilia Romagna è sempre alto. Occorre grande attenzione da parte delle forze dell'ordine e del mondo politico firmato da Regione e Comuni un accordo sulla sicurezza. Il danno erariale causato dalla vicenda Lombardelli se ci fosse sarebbe minimo. Parola di Anarita Iannunci, dirigente del Comune ascoltata oggi in commissione sul caso dell'escafo di gabinetto poi dimessosi ma l'opposizione contraattacca. Calcio posticipo di campionato questa sera a San Paolo dove il Bologna scende in campo contro il Napoli di Mazzarri. Pioli propone una diga di centrocampo per bloccare la fantasia degli attaccanti partenopei. Andiamo avanti con il giornale. Si parlerà di preadolescenza e adolescenza in chiave educativa. Mercoledì prossimo presso l'Istituto Farlottine di Bologna che sempre questa settimana ha programmato anche un Open Day. Sentiamo Massimo Ricci. La preadolescenza e l'adolescenza sono fasi cruciali della crescita dei ragazzi. Per questo è stato programmato un convegno sul tema a cui interverrà Don Andrea Marinzi mercoledì prossimo alle ore 21 presso la Scuola San Domenico Istituto Farlottine di Via della Battaglia. È finita la parte dell'infanzia l'infanzia in cui tutti i bambini seguono l'adulto come il loro riferimento primo. In questa età invece è messa un po' in discussione la figura dell'adulto è tutto un pochino in crisi. I ragazzini hanno bisogno di riscoprire personalmente i valori che gli sono stati insegnati nell'infanzia e spesso sono molto ribelli in questa fase proprio perché hanno bisogno di risposte vere da riscoprire in maniera personale. L'Istituto Paritario va dal nido alla Scuola Secondaria di primo grado cioè la scuola media e le insegnanti si confrontano quindi con diverse fasce d'età. Beh, questa è una grazia che noi possiamo sperimentare ogni giorno il fatto di avere tanti settori all'interno della nostra scuola e di poterci confrontare sui vari aspetti anche che gradualmente cambiano in ciascun bimbo. La Scuola San Domenico poi proporrà un Open Day nella giornata di sabato prossimo a partire dalle 10 per incontrare genitori e bambini. Facciamo vedere ai genitori insegnanti che sono presenti che avranno dei laboratori con i bimbi che vengono a giocare che vengono un po' a conoscere la nostra scuola. Ci saranno anche tre congressi tenuti dai esperti nostri per tutti i genitori. In questo periodo di crisi infine sono quanto mai provvidenziali le borse di studio messe a disposizione delle famiglie per l'iscrizione dei figli. Grazie a Dio abbiamo la possibilità di offrire queste borse di studio per le famiglie che magari sono in maggiore difficoltà e sappiamo tocchiamo con mano che purtroppo queste famiglie aumentano e quindi ci possiamo vantare fra virgolette di mostrare nella pratica che la scuola paritaria non è una scuola. E il messaggio del Papa Benedetto XVI in occasione della giornata della pace che si è svolta il primo gennaio è stato al centro l'altra sera di un convegno che si è svolto alla parrocchia di Santa Caterina da Bologna al Pilastro. Vediamo il servizio. Approfondire sotto diversi punti di vista il messaggio del Papa in occasione della 45esima giornata mondiale della pace che aveva come titolo educare i giovani alla giustizia e alla pace. Questo è l'obiettivo dell'incontro che si è svolto nella parrocchia di Santa Caterina da Bologna al Pilastro. Sono intervenuti esponenti di diversi settori dall'ufficio catechistico diocesano agli scout alla comunicazione e ai movimenti ecclesiali. Penso che dunque sia estremamente importante anche in questo decennio dedicato all'educazione che la Chiesa italiana rifletta sulla potenzialità di avere uno sguardo di speranza sui giovani innanzitutto e di non sottovalutare la necessità di costruire continuamente il tema della pace. Quindi questo incontro penso si offra in modo molto ricco e sollecitante sia per i contenuti come anche per le diverse agenzie che interverranno in questo contesto. Il senso di questo incontro penso che sia incrociare diverse esperienze di pensiero educative per cercare come dire di misurarsi un po' con il messaggio del Papa che non fa mai male nel senso che è bene sempre come dire aggiornare il proprio pensiero rispetto a quello che dice la Chiesa per chi fa educazione e penso che possa essere un bel modo questo di confrontare modi diversi di leggere un messaggio che parla a tutti. Ci fermiamo un attimo poi saremo di nuovo in studio tra poco Di nuovo in studio con TG parliamo di calcio posticipo di campionato questa sera al San Paolo dove Bologna scende in campo contro il Napoli di Mazzarri per noi al San Paolo c'è Sabrina Orlandi allora Sabrina vuole l'atmosfera che si respira? Ma intanto buonasera Giuseppe qua è molto freddo ci dicevano i colleghi di Napoli che la temperatura si è attestata sui meno due c'è anche molto vento allo stadio comunque stadio abbastanza pieno per quello che riguarda il pubblico di casa cento i tifosi di cui abbiamo notizia partiti in mattinata con un pullman da Bologna per seguire la squadra la squadra è già arrivata allo stadio tra poco scenderà in campo per il riscaldamento le ultimissime parlano di una 3-5-2 come modulo scelto da Pioli quindi Divaio unica punta Ramirez a le sue spalle centrocampo invece più folto con cinque giocatori e la riconferma della difesa a tre nel Napoli non c'è ancora l'Avesti infortunato e l'attacco dovrebbe vedere Cavani come punta centrale alle sue spalle Pandev e Amstic l'anno scorso Pioli ha battuto Mazzarri due volte quando Pioli era la guida del Chievo sia in casa che in trasferta ed è su questo che ovviamente oggi punterà nuovamente il tecnico del Bologna che ha dimostrato di aver trovato almeno l'anno scorso le contromisure per una squadra ovviamente sulla carta più forte ma il campo darà il verdetto postesipo della diciottesima giornata di Serie A si comincia alle 20.45 Radio Cronaca in diretta a partire dalle 20.30 su Radio Nettuno mentre tra poco alle 19.50 saremo in collegamento all'interno di solo calcio per seguire tutto il match il pre-partita la partita e il post-partita appunto di Napoli-Bologna è tutto grazie a Giuseppe grazie a Sabrina e buon lavoro noi siamo in chiusura andiamo a rivedere ancora una volta i titoli del nostro giornale arriva arriva la tassa di soggiorno ed è pronta una stangata da 40 milioni di euro sono le anticipazioni sul bilancio di Palazzo del Curso che sarà varato domani dalla Giunta allo studio anche un aumento IRPEF per i redditi più alti e la rimodulazione del Limo aumentano i consensi per Virginio Merola il sindaco di Bologna migliora del 3,5% nell'apprezzamento dei cittadini rispetto al giorno dell'elezione per lui 54% cresce anche il governatore Vasco Erreni il rischio di infiltrazioni mafiose in Emilia Romagna è sempre alto corre grande attenzione da parte delle forze dell'ordine e del mondo politico firmato da regione e comuni un accordo sulla sicurezza il danno erariale causato dalla vicenda a Lombardelli se ci fosse sarebbe minimo parola di Anarita Iannucci dirigente del comune ascoltata oggi in commissione sul caso dell'escapo di gabinetto poi dimesso si ma l'opposizione contraattacca calcio posticipo di campionato questa sera al San Paolo dove il Bologna scende in campo contro il Lampolo di Mazzarri i Pioli propone una diga di centrocampo per bloccare la fantasia degli attaccanti partenopei è tutto con questa edizione del nostro giornale grazie per averci voluto seguire a tutti voi una buona serata arrivederci grazie a tutti